Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante, lo metto qui davanti subito, è Google Pixel 4. Quello nelle mie mani è il prodotto che Google ha pensato per la stagione 2019-2020 e che rappresenta Android allo stato dell'arte. Questo è un dispositivo da giudicare per cosa fa e non per l'hardware che usa per farlo, perché per i puristi, quelli che guardano la scheda tecnica, questo potrebbe essere un telefono con qualche difetto. Allo Snapdragon 855, non l'855+, ha solo 6 giga di RAM, ha due sensori fotografici e non tre o quattro come altri dispositivi, ma in realtà questo Google Pixel 4 è un telefono esageratamente completo. Cerchiamo di capire perché. Partiamo dal punto di vista estetico. Molti hanno, diciamo, criticato in modo molto duro questo aspetto con il quadratone delle fotocamere alle spalle. In realtà questo è un telefono da guardare da vicino, perché la combinazione tra la finitura matte, quindi opaca, e il quadratone delle fotocamere invece lucido è molto bella, in particolare quando la si vede nella colorazione bianca. Anche davanti una scelta controcorrente di Google con un display in due formati, tra Pixel 4 e Pixel 4 XL, in cui è stato scelto di tenere questo cornicione superiore davvero molto evidente. All'interno c'è la fotocamera frontale, ma non solo, perché c'è anche un vero e proprio radar di movimento. Quello che attiva la funzione Motion Sense è che è una delle vere novità di questo telefono. Come funziona Motion Sense? Avverte la vicinanza dell'utente, è in grado ad esempio di accendere e spegnere l'always on display, ma anche di avvertire i comandi per l'avanzamento o l'arretramento delle tracce quando si usa un'applicazione musicale. Non solo quella interna di Google Play Music, ma anche con Spotify, con Apple Music, con tutte quelle applicazioni che hanno comando avanti e indietro. È un sistema molto intelligente, in grado anche di riconoscere i falsi allarmi, cioè quindi di essenzialmente riconoscere quando un utente sta interagendo col telefono e non solo sta magari gesticolando davanti ad esso. Non c'è più il sensore delle impronte digitali. Questa è una scelta davvero originale, singolare da parte di Google. Lo sblocco del telefono viene fatto esclusivamente attraverso il codice oppure il riconoscimento del volto e qui devo dire che c'è un difetto, almeno per il momento, perché purtroppo il riconoscimento del volto di Google sblocca il telefono anche a occhi chiusi. Quindi vuol dire che qualcuno potrebbe prendere il vostro telefono quando state dormendo e sbloccarlo addirittura quando siete morti. Però a quel punto lì non vi interesserebbe tanto che qualcuno guardasse dentro il vostro telefono. Però insomma, mentre una persona dorme, teoricamente si può sbloccare mettendo il telefono davanti. A parte questo, bisogna dire che è veramente eccezionale il fatto che proprio grazie a Motion Sense, quando un utente si avvicina e il telefono lo riconosce, si prepara lo sblocco. Basta alzare il telefono perché lo sblocco entri in funzione e si arrivi direttamente alla schermata home del telefono stesso. Il display. Allora, abbiamo detto che questo è un display con, diciamo, questa cornice superiore molto generosa, discrete, diciamo, insomma, non fortissime, non grandissime cornici laterali e una parte inferiore in cui, insomma, comunque il bordo si vede. Come detto, c'è alloccata la fotocamera anteriore da 8 megapixel, c'è il radar di movimento, però la qualità di questo display è superlativa. È un display OLED grade A+, quindi con una valutazione A+, quindi una valutazione altissima a livello di qualità dei colori e soprattutto con degli interventi software che sono in grado di adattare le tonalità del colore all'ambiente in cui si usa il display. Non solo, perché quando il display viene utilizzato come mirino per la fotocamera, c'è una sorta di soluzione chiamata Live HDR. Vuol dire che vedrete sul display esattamente quello che poi andrete a catturare nella fotocamera. Questo è molto importante perché in molti altri telefoni voi vedete una scena, ad esempio, con una luce che brucia la fotografia e siete indotti a fare degli artifici con la vostra fotocamera. In realtà poi il software è in grado di correggere quella esposizione e quindi voi in pratica mettete in pista degli artifici che non servirebbero. Con Google Pixel vedete esattamente quello che scattate e questa devo dire che è una differenza molto importante. Quindi al di là della cornice, la qualità del display è un elemento molto, ma molto importante. Da punto di vista delle misure, 5,7 o 6,3 pollici di display, Full HD Plus per il Pixel 4, QHD invece per il modello Pixel 4 XL. È un Flexible OLED display. Flexible OLED perché il refresh rate del telefono va fino a 90 Hz, ma il software è in grado di trasportare la visualizzazione dei contenuti con un refresh rate di 90 Hz quando è il caso di farlo. Quindi quando le immagini mostrate sul display sono con movimenti molto veloci. E poi, come detto, si adatta al tono di ciò che circonda e ha anche una classificazione HDR che è sicuramente molto importante. Non mi soffermo tanto su quello che c'è dentro il telefono. Abbiamo detto 64 o 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM, il processore Snapdragon 855, certo poteva essere l'855 Plus, ma sappiamo che Google è bravissima nell'ottimizzare i propri prodotti. Quello che c'è importante all'interno invece è il core per il processo neurale perché molte delle cose che fa la fotocamera di Pixel e molte delle domande che voi farete all'assistente di Google troveranno risposta all'interno del telefono senza una connessione dei server e questo è un passo avanti veramente importante. Dedico qualche minuto anche alla fotocamera. Sono due in realtà, zoom e fotocamera con il sensore normale. La scelta è quella di 16 e 12,2 megapixel con uno zoom che è veramente impressionante grazie a quella che Google chiama la computational photography, cioè la fotocamera è così intelligente da essere in grado di immaginare quello che sta succedendo e quello che si sta riprendendo e quindi di correggere gli eventuali difetti. Questo porta anche a una nuova modalità notturna che, pensate, può avere in alcuni casi un tempo di esposizione che arriva fino a 4 minuti ma le foto che si ottengono sono veramente superlative. Fotocamera frontale, anche in questo caso una scelta piuttosto conservativa, no? 8 megapixel ma il risultato dei selfie che farete anche in modalità ritratto è semplicemente eccezionale. Visto che parliamo di software e di soluzioni avanzate Allora, noi vedremo solo più avanti il nuovo assistente virtuale di Google si ottiene schiacciando il telefono a lato oppure con uno swipe da uno qualunque dei lati del telefono in qualunque momento, in qualunque punto basta fare questo movimento dall'angolo inferiore del vostro Pixel 4 per accedere all'assistente virtuale. Insomma, in qualunque modo voi decidiate di utilizzarlo lui è sempre pronto a rispondere anche al comando Hey Google o OK Google. Insomma, questa parte del software con l'assistente virtuale è una di quelle su cui Google punta di più, no? Quindi l'assistenza nel fare delle cose, nelle informazioni che dovete ricevere, nelle cose che potete fare con il telefono è sicuramente importante. Alcune funzioni purtroppo ancora non sono disponibili in italiano ad esempio quella grazie a cui proprio con la potenza computazionale del vostro telefono siete in grado di registrare e avere una trascrizione in tempo reale di quello che dite. Al momento funziona in inglese ma presto arriverà anche in italiano. A proposito proprio di potenza di questo telefono, ancora una volta sono servizi che magari non vedremo subito al 100% in italiano, voi potete guardare un messaggio sul display e rispondere usando la voce addirittura in un modo contestuale. Questo è uno degli aspetti più importanti e più interessanti di Google Pixel 4. Batteria 2800 oppure 3700 mAh a seconda dei due modelli di telefono. In entrambi i casi si caricano con una carica veloce a 18W, ma non velocissima. In realtà c'è la carica wireless, ma soprattutto c'è la capacità di conservare in un modo molto aggressivo la batteria dalle applicazioni che tendono a generare battery drain con dei lavori in background. Il telefono saprà quale applicazioni voi usate più spesso e se qualcuna di quelle che voi non usate cercano di fare applicazioni in background, il telefono mostrerà un muro, quindi impedirà di consumare batteria in modo inutile. Insomma, non è una capacità esagerata, però vedo dall'uso di questi giorni che la resa è veramente notevole. Non credo serva a sottolineare che c'è Android 10 a bordo, questo porta le nuove gestures portate da Android 10, ma la cosa fondamentale è che quello che fa la differenza tra Google Pixel e gli altri telefoni è che qui c'è un'intelligenza artificiale molto potente a bordo del telefono stesso. Ci sono tutte le funzioni a cui siamo abituati, il now playing, cioè che in automatico mette sul display il titolo della canzone che magari la radio sta suonando in quel momento, c'è l'always on display che tra l'altro grazie all'opzione motion sensor si spegne quando noi non siamo vicini al telefono. Diciamo che le funzionalità sono veramente tantissime. Questo è un telefono che io considero un telefono per intenditori, non è un telefono da esibizionismo, non è un telefono da super design, ma è un telefono in grado veramente di fare tantissime cose e di farle in modo preciso, puntuale e senza bisogno di un hardware impossibile proprio perché l'ottimizzazione è notevole. Per me è promosso, ma a voi piace?